Giampaolo Vallardi, sindaco di Chiarano in provincia di Treviso. Anche il suo comune, come molti altri qui in Veneto, ha adottato il provvedimento Bitonci, il cosiddetto provvedimento ordinanza antisbandati. Mi può fare un bilancio di questi primi mesi? Il bilancio è sicuramente un bilancio positivo. Ci voleva questa ventata di novità che accomunasse un po' tutte le amministrazioni comunali, al di là dei vari risultati che comunque possono essere variegati, chi più chi meno, a seconda anche dell'affluenza degli extracomunitari nel territorio, c'era bisogno finalmente che fossero messe delle regole certe, dei paletti, all'interno dei quali certa gente deve capire che per poter venire qua nel nostro territorio deve rispettare le regole, usi, costumi, tradizioni, ma soprattutto delle regole del vivere civile. Parliamo un po' di numeri, sul comune quanti abitanti più o meno ha e quant'è la percentuale di extracomunitari? Ma non è un grande comune in quanto a dimensioni, è un bel comune sui 4.000 abitanti, un po' meno, non siamo ancora arrivati ai 4.000. Gli extracomunitari sono circa il 10%, sono anche abbastanza ben integrati, però qualche problemino l'abbiamo avuto anche noi per il passato, qualche problemino di integrazione. Abbiamo qualche picco nelle scuole, perché nell'ultimo anno abbiamo avuto che all'interno di una classe siamo arrivati al 50% di presenze di ragazzi all'interno di una classe. Su 14 ragazzi ne abbiamo avuto 7 di extracomunitari. Questo ci ha creato più di qualche problema, soprattutto sotto il profilo didattico. Per questo motivo abbiamo fatto un ordine del giorno in consiglio comunale che abbiamo trasmesso al Ministro Fioroni, in cui abbiamo chiesto di poter far sì che i sindaci possano prevedere un tetto massimo di partecipazioni all'interno delle classi. Noi abbiamo chiesto che possa arrivare a un massimo di 30%, perché crediamo che oltre questa percentuale non sia più un'integrazione da parte nostra, ma si arriva a pensare a una integrazione da parte loro. Non sono più loro stranieri a casa nostra, ma siamo noi che veniamo integrati da loro. Per questo motivo ci siamo permessi di portare avanti questo ordine del giorno. Un ordine del giorno sul quale fermamente ci crediamo e che ha prodotto anche qualche effetto, perché all'inizio di quest'anno, nel mese di gennaio, il Ministro Fioroni ha deliberato una circolare in cui dice a tutti quanti i direttori didattici di coordinare l'integrazione dei ragazzi extracomunitari con le amministrazioni locali. È sicuramente un passo avanti e spero che questa iniziativa possa essere estesa anche a tutti i comuni del Nord Italia.